Buongiorno bianconeri. Andiamo alle ultime notizie dalla Juventus di oggi. Quindi lasciate il vostro mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche. Andiamo al giro di cronaca bianconero. Uno dei giocatori più esperti della Juventus next gennaio, Simone Iocolano, sta per lasciare la Juventus. Il giocatore di 33 anni è arrivato alla Juventus il 21 gennaio 2022 per dare più esperienza ai giovani bianconeri, ma al momento Simone Iocolano sta lottando per rimanere alla Juventus. Simone Iocolano finora ha giocato 18 partite, segnando quattro gol e fornendo tre assist. Il giocatore non nasconde la sua volontà di restare a Torino, ma la Juventus non ha intenzione di tenere l'attaccante per un'altra stagione. In ogni caso, la dirigenza della Juventus si incontrerà con gli agenti di Simone Iocolano a marzo per discutere di un possibile rinnovo. Tuttavia, fonti vicine alla situazione dicono che il rinnovamento tende più verso un addio. Bianconeri! Conosci Simone Iocolano? Se sì, dimmi cosa ne pensi. La Juventus dovrebbe rinnovare il suo contratto?